Salve ragazzi, ben ritrovati! Spero che le vestività le abbiate passate in unire dei modi, manca ancora la pefana ma ci siamo vicini. Allora, oggi andremo a vedere l'allenamento mensile per quanto riguarda la forza che l'andremo ad allenare alternando esercizi di potenziamento muscolare a terra con esercizi di potenziamento in bike. Andiamo un attimino intanto a dire che abbiamo iniziato il nostro riscaldamento e stiamo andando a 90 RPM con un ruolo lungo, quindi 70-75% della presenza cardiaca massima che credo a molti di voi sia cambiata perché la precedente settimana o anche due avrete fatto il test della settimana di transito, quinta settimana di dicembre. Allora, dicevamo che il nostro riscaldamento poi continuerà con 5 minuti a fondo 30 sempre a 90 RPM e 5 minuti a fondo medio a 80 RPM. Termineremo poi il riscaldamento con 3 serie formate da 2 minuti a fondo medio a 60 RPM in piedi e un minuto a fondo medio veloce a 80 RPM seduti. Allora, torniamo un attimino a questo tipo di allenamento. L'ho spiegato più volte, lo vi spiego anche adesso senza nessun problema. Questo è un allenamento che per chi si allena 5 volte va fatto una volta a settimana, chi si allena invece 3 o 4 volte va a decidere o di alternare un allenamento della della corsa solamente con gli esercizi sul bike ad un allenamento come questo, oppure fare solamente ad un allenamento con gli esercizi specifici sul bike. Io, per chi si allena 3 o 4 volte, spingo molto sul fatto di alternare più allenamenti perché, come vedo nel video, incubarlo nei modi in cui si può allenare la forza, per me allenare la forza in palestra è fondamentale. oggi è un allenamento lungo, circa un'ora e 35, un'ora e 40 perché abbiamo anche gli esercizi a terra. ok, un minuto, la forza ragazzi, la forza è fondamentale per poter poi allenare le altre caratteristiche e va allenata sempre per tutto l'anno. È normale poi che nella settimana di gara andrà allenata in un determinato modo, quando uno monta la gara in un altro, ma sicuramente va allenata sempre perché è un attimo perderla. ci vuole tanto, tanto sacrificio per provare la forza ma un attimo per perderla. quindi noi cercheremo proprio questo, allenandola per tutta la stagione. 4 secondi e andiamo a fondo, retro, pronti? Via! Allora, sempre 90 di gara, sempre 90 di gara. 4 secondi e andiamo a fondo, per cui ora è sempre 90 di gara. Grazie a tutti. 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 Se c'è una prenazione, bisogna essere un motivo. Grazie a tutti. 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 Yeah. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 2, 2, 1... 2, 1, 2, 2, 1... 2, 2, 1... Grazie a tutti 3, 2, 1, torno sui metali, il circuito che abbiamo descritto prima, lo dobbiamo fare due volte, quindi ripetiamo, 45 squat, poi 3 minuti, SFR, 45 RPM, torno meglio, e 2 minuti, questo qui, che sto facendo oggi, meno di 1 minuto, e andiamo a fondo veloce, vi ricordo, bene, spingo, e tiro, negli esercizi a terra, per motivi di spazio, di bilacere, da poggiare a terra, se riuscite ad avere un castello dove poterlo poggiare, è meglio, in modo da evitare qualsiasi tipo di problema alla schiena, a terra, 90 RPM, 80, scusate, a terra, 90 RPM! Grazie per la visione 5 giorni, 2, 1, dopo su Terza serie Ok. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Scendo. Grazie. 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 Andiamo su. Due minuti. 3 Grazie a tutti 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 Soglia Grazie a tutti 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 Grazie a tutti